Via libera per il progetto di realizzazione e gestione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico La Fonte e La Priore. Il progetto è passato dalla giunta regionale grazie alla proposta dell'assessore antilocali montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori che approva lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e il Comune di Valfurva. L'intervento, ha spiegato Sertori, rientra nelle progettualità sostenute dal Fondo Comuni Confinanti che finanzia interventi nei comuni lombardi vicini alle province autonome di Trento di Bolzano in un'ottica di coesione territoriale. Con la delibera si dà avvio all'attuazione del progetto della seggiovia nel Comune di Valfurva grazie a un contributo di oltre 3 milioni di euro su un totale di oltre 7 milioni di investimenti approvando anche l'immediata erogazione di un anticipo pari al 10% e lo schema di convenzione da sottoscrivere per la realizzazione del progetto. L'intervento è parte di un primo stralcio di quattro interventi strategici previsti nelle province di Sondro e Brescia per i quali, in coerenza con quanto deliberato dal Comitato Paritetico del Fondo Comuni Confinanti, è stato approvato l'accordo per il trasferimento delle risorse finanziarie a Regione Lombardia per un totale di oltre 18 milioni di euro.